Ricordo che diversi anni fa, mentre ero sul treno, mentre stavo facendo un viaggio, come mia solita consuetudine, mi trovai in fronte delle persone nella cucetta con cui condivisi l'Evangelo e ci fu un signore, piuttosto anziano, che mi rispose con una provocazione che mi diede molto da pensare. Io all'epoca ero un giovane credente, quindi avevo accolto questa provocazione e avevo risposto come meglio credevo. Poi col tempo comunque ho riflettuto, ho pensato effettivamente che quello è stato, potrei dire, né più né meno che un attacco del nemico, il quale si servì sicuramente di questo signore per cercare di stillare nella mia mente, nel mio cuore, questo pensiero demoniaco. Il discorso avverteva in questi termini. Io raccontai ovviamente della mia fede in Dio, di come Gesù Cristo è venuto a parlarci del Padre e a darci questa opportunità di salvezza, morendo in croce per noi. Al che quando nominai appunto Dio quale padre, insomma come ci è stato presentato da Gesù, ebbi da parte di questo signore un disappunto, sostenendo egli che un padre che si rispetti deve prendersi cura dei suoi figli, mentre invece vediamo una catastrofe esagerata, secondo la sua tesi atea, in quella che è l'umanità. Ecco, all'epoca non avendo quegli strumenti, come dire, dialettici ed esegetici per poter intraprendere un discorso accurato con questo signore, semplicemente dissi che lui si stava ingannando, che non era così, perché comunque tutto era da ricondursi a quello che è la volontà dell'uomo che ovviamente è stato creato con questo arbitrio, con questa scelta e la scelta purtroppo iniziale dell'umanità fu proprio quella di staccarsi da Dio, di prendere un'indipendenza da quel creatore che aveva dato luogo a una creazione perfetta e di conseguenza quello che noi stavamo vivendo era uno stato di anomalia, di imperfezione che un giorno però, un giorno questo terminerà. Il messaggio dell'Evangelo consiste proprio in questo, diciamo, annunzio gioioso e gaudioso, ovvero sia che Cristo è il Salvatore, che il suo regno è già venuto in mezzo di noi, anzi inizia dentro i nostri cuoli per un giorno veramente a prodare a quella realtà beata e futura senza più veli e senza più sofferenze, perché sta scritto ogni lacrima sarà asciugata, noi contempleremo il Signore faccia a faccia. Quindi noi siamo in questo percorso terreno sicuramente con tante prove, con tanti dolori, ma al tempo stesso per riconoscere Dio, per amare Dio e per goderlo un giorno per tutta l'eternità, un giorno che sarà un giorno eterno. Quindi all'epoca tutto questo non fu, diciamo, un discorso che intrapresi con questo Signore, tuttavia penso di come il serpente antico in molti cuori, in molte menti metta lo stesso falso, fallace, bugiardo pensiero, che Dio non si prende cura, quando invece noi sappiamo che Dio, mediante la sua provvidenza, sostiene l'universo, ma non solo, anche fondamentalmente quelle che sono le leggi che costituiscono ovviamente l'universo, perché è Dio che ci dà, come dire, l'aria, è Dio che ci dà il sole, ci dà ogni cosa che esiste. Noi siamo in vita per il suo soffio vitale, indi per cui questa menzogna è sicuramente una menzogna di facile sbroglio, di facile confutazione, però all'epoca mi ricordo che mi diede molto da pensare di come, diciamo, in tanti hanno in realtà lo stesso pensiero, perché non vedono nell'immediato quella provvidenza che hanno bisogno, non riescono a riconoscere Dio anche nelle piccole cose, non riescono a riconoscere Dio soprattutto in Gesù Cristo, suo unigenito figlio, che è venuto una volta per tutte, lui che è la risposta di Dio all'umanità, in mezzo di noi per aprirci le porte del paradiso. Ecco che è l'uomo ancora una volta a decidere se accettare quel piano di amore o se invece rifiutarlo. Quindi che questa esperienza possa servire a qualcuno che ascolterà queste parole, che se qualcuno vuole insinuare, diciamo, il dubbio sull'amore di Dio a motivo delle grandi sofferenze che non sono spiegabili, come dire, razionalmente, allora io invito a un atto di fede e di riposo in Gesù Cristo crocifisso, il quale tutte le sofferenze le caricò sulla croce, tutte le sofferenze le caricò onde e spiarle affinché le porte del cielo siano dischiuse e di conseguenza che il paradiso è a portata di mano, il paradiso è a portata di una preghiera, di una invocazione, un'invocazione di sole due parole. Gesù, salvami e le porte del cielo saranno dischiuse, saranno aperte per noi, veramente, per incontrare colui che è la verità, colui che la via la verità e la vita, colui mediante il quale noi possiamo essere accolti nelle braccia del Padre. Quindi il Padre niente ha fatto, non ci ha abbandonato, lui ci sta sostenendo, lui sta vigilando il nostro percorso terreno, lui sta soffrendo con le nostre sofferenze e per questa sua empatia verso di noi ci ha talmente amato da dare il suo onigenito figliuolo Gesù Cristo affinché quando si compiano i tempi noi saremo raccolti insieme a lui per tutta l'eternità e come scrive l'Apostolo Paolo affinché Dio sia tutto in tutti. Quindi coraggio, proseguiamo il nostro cammino nella verità, il Padre ci ama, il Padre ha decretato benedizioni per i Suoi figli e anche in mezzo alle sofferenze, alle prove, ai test della vita noi ci aggrappiamo a Cristo Gesù che per il suo Spirito Santo ci dà forza, vigore, aiuto, sostegno e ci ricorda che il cielo è preparato per noi, che quella nuova Gerusalemme è preparata per tutti i figliuoli di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.